La proposta del Comitato Santimoteo fa e farà discutere un referendum con all'oggetto il distaccamento dal Molise e l'annessione all'Abruzzo dei comuni della costa. Badate bene, non la riunione Abruzzo-Molise. Il Comitato chiede altro, chiede di non far più parte del Molise e di trovare rifugio nella regione confinante, dove evidentemente tutto funziona in maniera diversa, sicuramente meglio di come vanno le cose dalle nostre parti. Una provocazione che col tempo si è evoluta, diventando un argomento serio di discussione su quale sia il futuro della regione e come superare un impasse che, se non interrotto, porterà il Molise a non essere più in grado di gestire i propri processi governativi. La sanità è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I problemi sono tanti. Con queste parole Nicola Felice, presidente del Comitato Santimoteo, ha illustrato l'iniziativa, spiegando che il primo passo sarà quello di costituire un comitato referendario. Non sarà il Comitato Santimoteo, aggiunge, noi proseguiremo le nostre battaglie, lanciamo la proposta che altri, se vorranno, potranno fare propria. Il secondo passaggio sarà quello di raccogliere le firme e chiedere ai consigli comunali di deliberare la richiesta di referendum. L'ennesimo segnale dunque di un malessere di un territorio che evidentemente non si sente tutelato. Un percorso, quello dell'annessione ad altra regione da parte di comuni, già percorso da altre amministrazioni, con successo e dunque realmente concretizzabile.